Ci sono due tecniche fondamentali di manipolazione che dobbiamo conoscere perché in questo modo diventerà più difficile manipolarci. La prima l'ho nominata già pericchi anni fa e l'ho chiamata soluzione di reazione al problema. Allora, cosa funziona così? Si vuole cambiare il mondo a un certo livello, in un modo in cui si sa che se lo suggeriscono openamente, si avrete una resistenza pubblica significativa. E la cosa è che se noi proponiamo il modo che abbiamo in mente per ricordare quella questione, sappiamo già che ci verrà opposta una resistenza pubblica fortissima. Per esempio, se si dice che ci vorrà più sorveglianza, più repressione, più controlli sulla gente, per andare a capire i dettagli di quello che si vuole. Quindi, semplicemente, la proposta non viene fatta in maniera diretta secondo quell'idea. Quindi, nel primo stadio si procede creando un problema. Quindi, un attacco terroristico, un problema ambientale, qualsiasi cosa che provochi paura o disordine. E poi, a quel punto, attraverso una campagna massicce di stampa, e dei media si tende a diffondere tra la gente la versione dei fatti che noi vogliamo veicolare. Per esempio, la storia di Bin Laden, che prima era nel libro Pagno della CIA, che poi ha orchestrato tutta la storia delle torri. La seconda fase è la reazione che si riesce a scatenare nell'opinione pubblica, come una reazione di paura, di disperazione, di stress. E quindi, la reazione è, bisogna fare qualcosa, chissà che cosa bisogna fare. Oppure, hanno detto, bisogna fare questo e questo, non mi piace, ma non ci sono alternative, se no non riusciamo a fare. Quindi, a quel punto, quelli che hanno creato il problema per creare la reazione, da un uomo, con esattamente una soluzione che avevano in mente e che non sarebbero mai riusciti a far passare, se l'avessero proposta in prima battuta, riescono alla fine a imporre quello che è il loro interesse, cioè maggiore controllo, maggiore repressione, eccetera. Appena descritto il 9 settembre. Oppure la prima guerra mondiale. Oppure la seconda guerra mondiale. Oppure la crisi finanziaria del settembre 2008. Se lo status quo funziona, per com'è, è molto difficile fare dei cambiamenti. E quindi, bisogna costantemente creare degli shock che dimostrino che lo status quo non funziona più, in maniera poi da poter apportare i correttivi che non fanno altro che seguire il piano che si ha in mente. E poi c'è un'altra versione. Che è la soluzione al problema che non c'è problema. Si dice che questi non sono veri problemi. È l'opinione pubblica che ha la percezione che ci sia un problema e a quel punto si offre una soluzione alla percezione. Armi di distruzione di masse in Iraq. È stato un problema inventato che è stato utilizzato per giustificare l'invasione di un paese e i bombardamenti massicci. E poi c'è la storia del riscaldamento globale. Note che, since temperature started falling, at the turn of this century, nessuno ha mai potuto dimostrare che le temperature diminuivano all'inizio del secolo. They no longer call it global warming, they call it climate change. E quindi, siccome poi le temperature in realtà non sono aumentate tanto, non l'hanno potuto chiamare riscaldamento globale, l'hanno potuto chiamare cambiamento del clima. Adesso il ciclo solare, l'attività solare, si sta spostando verso un altro periodo di riscaldamento. A seconda del ciclo solare, il riscaldamento aumenta e diminuisce. E quindi, la prossima volta che ci sarà un picco di temperature verso l'alto, si smetterà di nuovo di parlare di cambiamento climatico e si recupererà la definizione di riscaldamento globale. Negli ultimi 21 anni, lui ha imparato tantissime cose e una di sicuro. If Al Gore's involved, it's a scam. Ah, quando c'è qualcosa che coinvolge un sistema intero, vuol dire come una fregatura? No, Al Gore. Al Gore. Al Gore. Al Gore. Al Gore, se Al Gore's involved, it's a scam. Ok, se Al Gore, da qualche parte, c'è una grande fregatura. Now, what's interesting is when you look at the graph of greenhouse gases, that which constitutes the greenhouse gas. Allora, se andate a vedere, hai le tabelle che dimostrano l'andamento dei gas dell'effetto serra. Spectrum of gases. Quindi, tutta la gamma dei gas che compongono la gamma dei gas serra. And by the way, without some greenhouse effect, there wouldn't be life on earth as we know it. E comunque, se non ci fosse un effetto serra provocato dal sole, non ci sarebbe neanche vita sul pianeta Terra. E anche per la nitride carbonica vale lo stesso discorso, anche se oggi la stiamo demonizzando. Se andiamo a vedere altri diagrammi con le tabelle dei gas serra, ce n'è uno che ha un livello altissimo rispetto agli altri, arriva al 97% della responsabilità per l'effetto serra. Se noi andiamo a leggere tutti gli articoli di propaganda che sono stati scritti in questi anni, ci aspetteremmo che questo gas, dall'effetto più esorbitante, sia l'anidride carbonica. E invece no, è il vapore acqueo e le nuvole. E quindi dovremmo forse mettere una tassa sul fenomeno della condensazione. E invece, sempre in questa tabella, laggiù laggiù c'è una colonna piccolina. E quella è l'anidride carbonica. E la maggior parte di questa anidride carbonica che viene chiamata in causa è in realtà l'anidride carbonica che esiste in natura. e che non è quindi creata dall'attività umane. Un centinaio di anni fa, le temperature su pianeta erano ben più elevate di quanto non lo sono oggi. E l'hanno chiamato il periodo di riscaldamento, il medioevo caldo. Che cosa lo ha provocato? Motori a turbina? E quindi è emerso con chiarezza che i dati sono stati sistemati per cancellare la memoria di questo periodo di riscaldamento del medioevo. E soltanto cancellando ogni traccia di quel fenomeno è stato possibile disegnare dei diagrammi che avessero la forma di una mazza da hockey dove tutto stava piatto 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 e poi all'improvviso, puff, c'era questo picco. E questa è la ragione per cui Al Gore non incontra volentieri gli esperti e ce ne sono tantissimi che hanno grande conoscenze in questi campi. E molti autori che hanno anche scritto che questa demonizzazione del problema della rendita carbonica in realtà è un non-sense. Ma per quanto riguarda questo movimento problema, reazione, soluzione se volete provocare un cambiamento del mondo a livello globale c'è bisogno di avere o di inventare un problema globale in maniera che poi si possa dire di aver trovato una soluzione globale che avrà un impatto su ogni singolo essere della Terra. e quindi a questo punto si potrà anche creare una guerra globale o si avrà il riscaldamento globale e quindi attraverso questa matrice che viene utilizzata da società segrete che in ogni paese fanno capo alle famiglie che controllano il programma di marcia. E poi c'è un punto centrale di questa rete appunto nel quale si trova il quartier generale da cui partono tutte le istruzioni che vengono distribuite. E funziona un po' come una società multinazionale c'è un quartier generale da cui vengono elaborate e dettate le politiche globali che vengono poi messe in atto dalle diverse consociate nei diversi paesi. Quindi nel momento in cui si riesce a inventare un problema globale oppure si crea la percezione di un problema globale le consociate nei diversi paesi si daranno da fare per introdurre la soluzione a questo finito problema globale. e quindi quando lui viaggia in tutto il mondo alla fine vede che le stesse cose vengono applicate perché sono giustificate dalla stessa scusa. E quindi in tutti i paesi si cerca di modificare la vita della società per rispondere a una minaccia che in realtà è una minaccia inventata. Uno dei filamenti che compongono questa rete è il Club di Roma che è stato creato nel 69. E uno dei fondatori del Club di Roma, Aurelio Peccei, nel 91 ha scritto un documento dove si parlava già di riscaldamento globale e delle varie strategie per vedere tutto quello che noi vediamo oggi. E oggi in tutto il mondo per questa enorme minaccia del terrorismo sono state represse e eliminate libertà fondamentali dell'uomo per tamponare questo finto problema. E c'è un'altra tecnica fondamentale di manipolazione delle coscienze che funziona in parallelo a questa soluzione dei problemi creati che si chiama il camminare in punta di piedi in maniera totalitaria. Insomma il totalitarismo in punta di piedi. Grazie.